Buongiorno ragazzi, sono Cristian Brignoli e Roberto Alberelli, rappresentanti del Team Relti Bates Italia. Vi invito l'8 e 9 giugno al White Lake Soncino alla manifestazione Place to Be organizzata dal gestore Andrea. Sarà un evento dove le aziende come la nostra, come tante altre, avranno l'opportunità di scambiare opinioni verso chi potrebbe essere interessato sia all'evento, per vedere un lago che sicuramente ha tanto da offrire, un ambiente spettacolare e perché no magari riuscirà a avere anche l'opportunità di portare in questa piccola esperienza di un paio di giorni delle catture in diretta e confrontarsi con noi che siamo a vostra disposizione. Grazie, vi aspettiamo!